sempre e comunque forza neppoli un giorno all'introvviso mi innamorai di te mamma mia mamma mia che cazzo ci ha voluto per fare il suo gol mamma mia mamma mia non ce la facevo più non sapevamo come segnare mamma mia mi stia venendo un attacchi panico ma voi avete capito che per 90 minuti anzi 95 minuti 23 quanti sono su liverpool non ha fatto manco un tiro a porto uno solo con salamma all'ultimo madonna mia attraversa ma non lo so ma sembrava che questa Champions sia strecata per segnare proprio strecata un grandissimo Napoli che ha dominato su liverpool un liverpool piccolino 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 ha annichidito e non sa su Napoli ma tu va a farci tutti guardate chi? tutti quelli che dicevano che noi portiamo con liverpool questa sera ma papà ha annichidito la cosa a me che mi fa rabbia infatti mi stava facendo rabbia fino al gol che abbiamo creato parecchie occasioni parecchie occasioni porca miseria ci perdiamo negli ultimi 15-20 metri ci portiamo milic poteva dire prima madonna mia ma che vuol dire che fa? poi giustamente si è si è messa pure la sfortuna che la traversa mamma e sta ancora tremando che la traversa mamma mia ti ha capito che con liverpool manco uno solo ha fatto uno ha fatto uno solo ha fatto ora nel secondo tempo ma stiamo pazziando madonna mia madonna mia ma certo però questo liverpool certo che se non vincevamo questa partita era proprio era proprio ingiusto sinceramente era proprio ingiusto questa partita mamma mia mamma mia mamma mio carmine ho venuto questo limone per tutti i cuofi che hanno detto che noi perdiamo oh liverpool generacin mettetemelo su per il culo bello tutto tutto con tutto il limone al bacio oh mamma mia e come goto come goto come goto come goto come goto come ho fatto slippe u naturalità il culo a te lì è fatto è fatto che ora metto il pallone salata è fatto che ora mi faccio scusate in un supermercato con me è un super santos lo so non so non lo so super santos non lo so non lo so ma non ma son lo so è bu toccato au limone indenditore, indenditore e stupip indenditore mamma mia, mamma mia mamma mia, mamma mia questa vittoria, mamma mia come la desideravo la desideravo perché ce l'abbiamo meritata questa vittoria voglio, teniamo 65% di possesso palla, teniamo abbiamo fatto 6-7 tiri quando è che faccio a ricevere? ha un immenso su tutti i fronti, niente di meno niente di meno che a chi lo contrasta pure la mucera contrasta mamma mia ma comunque allora al gol di Insegna finalmente si è scaricato un'ansia terribile ma un'ansia terribile perché il gol non voleva venire, ve l'ho detto abbiamo creato tanto, abbiamo creato quindi gli ultimi 15-20 metri ciò mi ha perso ma Ron mi arrabbio perché questo Napoli può dare di più porca miseria a volte sapete che penso sapete che penso io porca miseria mamma mia però sapete che penso che ci volevo chi lo troppo che lo troppo è là davanti pure là davanti perché con chi lo troppo è che facevano a giocato anche nulla a togliere a questo Napoli qua ma in questi casi c'è un'ansia terribile che non c'è da otto per l'esempio è di Son Gavani che oggi il PSG mi sembra che ha vinto 6 a 1 con costella rossa ma Ron non abbiamo segnato non abbiamo segnato se il più c'è da parte non ci siamo state cazzo di segnato come il Liverpool e meno male che è arrivato su un gol meno male ma ce lo meritavamo meno male meno male mi mancazze perché questo Napoli è forte porca miseria questo Napoli è forte questo Liverpool il Liverpool non mi fa paura non ci fa questo ci fa che lato sto Liverpool Michi vieni qua saluta saluta il mio ciao il mio Michi a te che stai guardando e guardi tutto il mio i miei video questo è il mio supply infatti è 12 rocce a te se tu hai le palle posso ti mandare i messaggi privati poi mi mandi un messaggio ora ti sei fatto vedi quanto sei frustrato ti sei fatto un altro contatto mi hai scritto questo questo è il mio supply ho detto come bello sto bello giusto 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 questo supply è il mio supply è il mio supply è il mio supply se tu tieni le palle mostrati con il contatto vero capito figli marrono mostrati con il tuo contatto io ti mando così eh così ti mando strunza hai capito ho capito pupa faccia tua questo è il mio supply che è buono io papà nel web è il re dei limoni tu sai papà sul web ha cacciato i limoni ma tutto quanto questi limoni i limoni ho sottoscritto la limonitica a scorsa forza Napoli voglio forza forza Napoli sempre forza Napoli mocca chi su capo tutti i guf che speravano che Napoli non vinceva se non vinceva era ingiusto però questo parte pure del calcio perché vince chi la butta a denti chi non la butta a denti si la butta nell'allano quindi per tutti quelli mettetevelo su per il culo bello con tutto a scorsa facitelo aggiunto e qua è un pata il mucco limone mucco zucuso zucuso te l'ho detto ripeto un'altra volta se hai le palle vieni col contatto col contatto vero ti mangi a mors ti mangi strunz ci ha voglio un bacione è sempre e solo Forza Napoli perché tutto riesce a munez e siccherù ciao a tutti e Forza Napoli sempre sempre e comunque Forza Napoli un giorno all'improvviso mi innamorai di te e forza Napoli